L'Arizzo a Crema, una sfida che era andata in scena con la vecchia Pergo Crema nel 2010. L'Arizzo si impose 4-3, c'erano giocatori come Chianese e Fofana. Oggi Pergo l'è tesa allenata da Matteo Contini. L'Arizzo debutta dall'inizio, picchi in mezzo al campo a far coppia con Foglia, perché il resto ha confermato il 4-2-4, proprio Foglia! Dopo 4 minuti prova a sorprendere così il portiere Guidotti. Pallone in avanti verso Malcore, ecco la salita di Villa, parte il cross caso a terra, dall'altra parte sta arrivando Russo, l'Arizzo scoperto, conclusione di Russo. Palla sul fondo, Pergo L'Arizzo è pericolosa con l'Arizzo che prova a fare la partita. Cutolo, Foglia, 1-2 con Cutolo, sinistro di Cutolo, non blocca il portiere Guidotti, poi commette fallo che dirà in attacco su Canini. C'è il calcio di punizione per la Pergo L'Arizzo che si fa rivedere in attacco, con questa conclusione da parte di Russo con il pallone di poco sopra la traversa. Rolando verso Cutolo, parte il tiro! Palla che tocca all'esterno della rete quasi alla mezz'ora, l'Arizzo ancora pericoloso. Sempre Arezzo con Mosti, che dira, manca il pallone, Cutolo, prova a mettere in mezzo, che dira, gran controllo col destro! Si mangia così il gol del vantaggio, poi protesta, non si sa per cosa, comunque pallone sul fondo. Attenzione poi al controllo di Cutolo per che dira. Ancora all'indietro c'è il tentativo proprio di Picchi, che cerca la porta dalla distanza, non la trova, con Guidotti proteso in tuffo. Ancora un cross con la rovesciata di Baccaio Kone. L'Arizzo nel frattempo si era infortunato Borghini, debutta l'irlandese Nolan, che è tratto al centro della difesa. Qui siamo nel secondo tempo, quarto minuto, Luciani, Rolando, parte il cross e c'è Belloni che schiaccia! E l'Arizzo passa in vantaggio al quarto della ripresa. Belloni! Gran gol da parte di Belloni, forse il migliore in campo dell'Arizzo. Trova il vantaggio, la formazione a Maganto. Ed è dunque 1-0, Gran cross e Belloni schiaccia. E mette in gol per l'1-0. Arizzo che va a cercare il raddoppio. C'è che dica che finisce a terra. C'è l'intervento dell'arbitro che però ammonisce per simulazione. Proprio che dica. Angolo per la pergolettese. Palla in mezzo! Deviazione di testa di Malcore. Belloni. Rientra Belloni. Sinistro dalla distanza! Guidotti e poi che dica! Si mangia il secondo gol della sua partita. Nel frattempo è entrato Gori al posto di Rolando, così come Picchi al posto di Tassi. E c'è la conclusione proprio di Gori. Primo tiro che va sul fondo. È entrato anche più al posto di che dica. Cutolo prova a rientrare dal limite. Cutolo sinistro! Guidotti! In calcio d'angolo al ventiduesimo della ripresa. Cambi tra Bortoluz nella pergolettese. Luciani col destro. Guidotti non benissimo! E poi all'ultimo stava per intervenire più. Pergolettese in avanti. Attenzione allo scatto di Villa. Villa mette dentro col sinistro. Bortoluz in anticipo su Nolan. Secondo l'abito Cascone. Nolan tocca in modo irregolare Bortoluz. Ed è calcio di rigore per la pergolettese. Eccolo qua il replay. Calcio di rigore. Bortoluz dal dischetto! Spiazza così al trentaduesimo Pissardo. Bortoluz che era entrato al posto di Ferrari. Primo gol in campionato per Bortoluz. Destro che spiazza il portiere dell'Arezzo. Arezzo beffato dopo aver sfiorato il gol del 2-0. Arezzo che ritorna in attacco. Attenzione a Mosti. Pennella dentro. Più tutto solo! Palla sul fondo. Larga. Arezzo che insiste ancora. Belloni. Più. È entrato bene in partita. Conclusione. C'è una diviazione! Caso! È entrato anche lui nell'Arezzo. Palla però. In rete ma con la posizione irregolare. Calcio d'angolo per la pergolettese che sembra crederci. La presa sicura del portiere Pissardo. Bortoluz lo ostacola nel rinvio. Ma poi Pissardo si rialza e lo spinge davanti all'arbitante. Arbitro Cascone. Si accende una parapiglia. Arbitro ha un giallo in mano per Bortoluz. Pissardo. Rosso! L'Arezzo ha esaurito i cambi. Pissardo deve abbandonare il campo. Che vediamo. Bortoluz che vedete non permette il rinvio a Pissardo. Che poi si rialza. Momento di follia di Pissardo. Che spinge così Bortoluz. Rosso e deve andare in porta. Belloni con l'Arezzo in 10. Che prova comunque con caso. Palla per Gori. La palla torna ancora a caso. Caso Canini. Forse lo mette giù. Arriva l'arbitro. Attenzione. Rivediamo. E l'arbitro però ammonisce per simulazione anche caso. Non c'è per fortuna dell'Arezzo possibilità di concludere in porta. Dove c'è Belloni improvvisato. Finisce qui. Finisce 1-1. Tra Pergolettese e Arezzo con le proteste di Luciani. Di tutto l'Arezzo nei confronti dell'arbitro Cascone. Arezzo arrabbiato per la direzione arbitrale. Anche di Donato. Vedete piuttosto scuro in volto. 1-1. Primo pareggio in campionato per l'Arezzo.